In democrazia, se il Parlamento non ha la fiducia del popolo, si cambia. Si cambia governo. Ne sa qualcosa il vostro ex premier. Credo che la democrazia sia la migliore forma di governo, anche se non perfetta. Non necessariamente è stata una scelta volontaria e felice. L'ha fatto perché è stato costretto a farlo, non come me. Io sono ben voluto, ho il sostegno di tutti, ma volontariamente e felicemente mi sono dimesso. Non si possono comparare le mie dimissioni e quelle del vostro ex premier.